La felicità di farla, ok? Adesso mi sento sottopressiù, mi sento praticamente giudicato e non la sto vivendo bene. È importante Michele che però tu prenda tutte le cose che vengono dette in questa trasmissione come chiacchiere a volte in libertà e non ti offendi perché ti prego. Non sono i giudizi, sono più cose della vita privata, personale, in famiglia, eccetera, che è ovviamente la situazione con Roberto. Però non lo so Maria, la sto vivendo male da un po' e quindi preferisco andare a casa. Ok, tu vuoi dire qualcosa? Come che se ne vada? Ma Maria, questa è una decisione sua, cioè lui deve stare bene, tu non sei sereno qua? No, non sto bene. Non sto bene qua. Michele, vuoi parlare con Roberta fuori da qua? Maria, adesso abbiamo detto, cioè ci siamo detti tante cose, non penso di dover raggiungere altro, non lo so, adesso ho pensato tantissimo. Io sono settimane che penso che sta scelta questa decisione e ogni puntata che stavo lì in silenzio senza parlare era una conferma da parte sua.